numero 3 ferro da stiro professionale con caldaia dotato di impugnatura in sughero di una pressione di 6 bar e di piastra in alluminio per una maggiore scorrevolezza sul tessuto vapore pronto in soli due minuti il pannello di controllo è semplice ed intuitivo dispone di un accesso facilitato all'interno della caldaia per favorire le operazioni di pulizia e la rimozione dei residui di calcare comodo vano avvolgi filo il ferro ha una potenza di 1400 watt il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione numero 2 ferro da stiro con caldaia impressione con una potenza di 1400 watt in classe di efficienza energetica un ferro da stiro professionale per stirare con facilità anche le pieghe più ostinate dotato di piastra in alluminio satinato la caldaia è realizzata in acciaio inox la funzione eco zone permette di regolare la quantità di vapore e risparmiare fino al 35 per cento di energia il ferro dispone di indicatore luminoso per segnalare quando è pronto la pressione della caldaia è di 4.5 bar ottimo rapporto qualità prezzo trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 1 ferro professionale con piastra dotata di rivestimento ceramico per il massimo della scorrevolezza sui tessuti con questo ferro dotato di caldaia potrai stirare tutti i tuoi capi preferiti con facilità ha una potenza di 2200 watt una pressione di 6 bar per risultati professionali ottimo rapporto qualità prezzo il serbatoio ha una capacità di un litro il ferro è dotato di impugnatura ergonomica in sughero di termostato regolabile funzione vapore in verticale vapore continuo regolazione della quantità di vapore e spie luminose di controllo trovi il link di questo articolo in descrizione grazie a tutti